buongiorno a tutti signori va Gael per da Padova ci occupiamo di post installazioni di sistemi di fanali carplay navigazione retrocamera e quanto altro si voglia la mail in descrizione da qualche parte allora signori oggi facciamo questo video è un video che sinceramente è arrivato in ritardo io avrei dovuto farlo prima ma non ci sono riuscito di conseguenza perdonatemi perdonatemi detto ciao pazienza signori allora oggi parleremo di aggiornamenti dei sistemi di navigazione come sapete bene a livello di sistema di navigazione esistono noi aggiorniamo ovviamente trovate tipo qua sopra da qualche parte nelle nostre playlist tutte le varianti degli aggiornamenti di sistemi di navigazione sistemi di navigazione della piattaforma MIB MIB 1 di prima generazione MIB 2 di seconda generazione in descrizione ai nostri video trovate anche il link per scaricare le mappe che potete poi inserire in autonomia dopo che avete fatto le attivazioni e gli aggiornamenti da noi di conseguenza in descrizione a questo video ci sarà sicuramente i link rinnovati vi sto dicendo questo perché perché questo è il video per ricordarvi che è uscita anche l'aggiornamento della parte di navigazione per i sistemi MIB 2 quindi sistemi di seconda generazione versione standard non versione plus come funziona allora a livello dei sistemi di navigazione quindi oggi parleremo solo della versione standard della piattaforma MIB 2 la versione plus piattaforma MIB 1 e plus piattaforma MIB 2 non la trattiamo in questo video ci sono altri video a riguardo andatevi a riguardare praticamente quei sistemi plus per farla breve hanno un hard disk interno e i dati di navigazione vanno copiati dentro all'hard disk della unità quindi prima si copiano su un sd card e dopo si inseriscono dentro l'unità si lancia un update l'unità se li copia dentro a se stessa fa una parte di riavvio e avrete il nuovo database di navigazione ovviamente ci vogliono le licenze che devono essere inserite dentro il sistema di navigazione se no non potete fare neanche partire l'update se avete già fatto aggiornamenti da noi e abbiamo fatto l'aggiornamento del software l'inserimento delle licenze e sblocco video movimento e qual tanto inserimento dei punti di interesse potete fare in autonomia l'update della seconda parte del vostro sistema di navigazione oggi invece però trattiamo i sistemi di navigazione mid 2 standard questi sistemi non hanno l'hard disk interno come funzionano i dati di navigazione sono racchiusi sono raccolti sono generati sono conservati ecco non generati sono conservati in un sd card esterna ora non ne ho neanche una qua da farvi vedere comunque è una schedina sd formato grande quindi non è micro sd poi ci può essere la micro sd con l'adattatore grande però diciamo che è un sd card formato standard che è inserito nello slot 1 o slot 2 dell'unità di navigazione per esempio lo slot 1 serve per fare determinati update mentre lo slot 1 lo slot 2 servono ad ascoltare la musica e quindi a leggere le fonti multimediali che avete inserito dentro file file audio file mp3 file anche video se avete un plus però oggi stiamo parlando di sistemi standard e quindi file audio file mp3 oppure leggere il database di navigazione un database di navigazione che è circa 11 giga quindi vi basta un sd card da 16 giga la formattate e inserite i dati di navigazione che trovate in descrizione a questo video sì perché fino a prima oddio è circa è circa un mese che abbiamo la parte 2020 barra 21 di update di navigazione quindi tutti quelli che hanno avuto la parte 2020 e che hanno già fatto gli aggiornamenti da noi possono scaricare la cartella che è in descrizione scaricare il pacchetto 2020 barra 21 eliminare il vecchio pacchetto dati della sd card lasciarla formattata in fatto 32 mi raccomando e copiare incollare dentro il nuovo pacchetto dati non fate cartelle non fate cose strane ok poi magari vediamo se riusciamo a mettere col team una foto di come deve essere il pacchetto dati però non fate cose strane perché vedo gente che fa le cartelle le cose che si mette fa la cartella con scritto nav e poi musica no raga è lsd card della navigazione deve essere dedicata alla navigazione non potete purtroppo usarla peraltro di conseguenza quello che vedete nel mio link lo dovete copiare e incollare dentro senza pensare senza ragionare senza opinioni vostre ok copiatelo e mettetelo dentro ci sono più file e l'unità di navigazione deve vedere tutti quei file deve fare il check del della validità del database di navigazione per poi partire proprio per poi partire con il caricamento di conseguenza ripeto ulteriormente in descrizione per chi non l'avesse capito in descrizione a questo video trovate il link aggiornato delle mappe mi 2 standard versione 2020 barra 21 da inserire nella vostra sd card formattata in fat 32 cancellate la roba vecchia mettete la roba nuova e magicamente il database di navigazione verrà verrà caricato questo è valido solo per chi ha già fatto gli aggiornamenti da baghelper quindi se tu che hai guardato il video fino adesso non hai ancora fatto l'aggiornamento da baghelper la mail qua in descrizione ci scrivi ti faremo un preventivo per l'update software spesso facciamo update software anche update software update mappe attivazioni di audi smartphone interface che comprende carplay ed android auto quindi se tu non hai ancora fatto questa cosa qua scrivici e ti facciamo tutti gli aggiornamenti di cui hai bisogno se invece sei già stato da noi mi viene da pensare persone che sono andate più di un anno fa li abbiamo messo il 2019 forse 2020 un anno fa e adesso potete aggiornare in autonomia le vostre unità di navigazione quindi grazie vaga helper quanto lungo il video 7 minuti troppo tempo allora signori avete capito tutto io vi ho fatto una breve panoramica link in descrizione raga non cominciate a commentare del tipo io le ho scaricate ma non vanno sì ma hai fatto le attivazioni da noi no e allora mail in descrizione ragazzi per oggi è tutto altro da dirvi non dovrei dirvelo cioè ne ho tante di cose da dirvi ma non vi posso aggiornare tutto e subito vi aggiorniamo una volta a settimana il sabato pomeriggio alle tre e mezza e di solito facciamo anche una direttina quando il periodo è più tranquillo adesso è un periodo molto pieno di lavoro di conseguenza e la facciamo martedì o mercoledì quindi per spezzare la settimana di solito la 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 annuncio magari anche un oro due prima non do grandi preavvisi quindi attiva la campanella notifiche da qualche parte appare sempre i pupattini che abbiamo pagato per voi non per noi io so che devo attivare la campanella notifiche quindi schiacciami piace attiva la campanella notifiche resta aggiornato sul canale in modo tale da non perdere live puoi fare anche qualche domanda se hai dei dubbi ti risponderemo in live noi ci vediamo al prossimo video e arrivederci